La nostra Costituzione tutela sia la salute della persona che la sua libertà. A tal proposito il Movimento 5 Stelle vuole depositare a livello regionale un progetto di legge per l'istituzione del registro delle dichiarazioni anticipate di volontà e di trattamento. Questo perché? Perché ci sembra giusto che una persona sia libera di dichiarare anticipatamente i trattamenti sanitari a cui eventualmente vorrà o non vorrà essere sottoposta in futuro qualora non fosse in grado di poter disporre pienamente delle proprie volontà e della propria autonomia decisionale. Esistono già diversi registri a livello comunale. Secondo noi la Regione deve unificare, unire questi registri e crearne uno unico. Chiaramente la legislazione regionale non si deve sovrapporre a quella italiana, a quella nazionale per la quale comunque ancora c'è un vuoto. Quindi noi intanto chiediamo che venga istituito questo registro e che le dichiarazioni delle persone vengano inserite all'interno della propria tessera sanitaria in modo tale che il servizio sanitario disponga di queste informazioni che non sono vincolanti ma comunque esprimono l'opinione del cittadino rispetto alle proprie volontà. In attesa ovviamente che si giunga ad una norma a livello nazionale che tuteli e rispetti le libertà personali di ognuno. Ci sembra giusto che specialmente in questi giorni che si è parlato di temi simili si arrivi anche in Emilia Romagna che è considerata una delle regioni più avanzate d'Italia sotto il profilo dei trattamenti sanitari ad un rispetto delle volontà e delle libertà personali.